Gesù ascoltami. Gesù esaudiscimi. Figlia mia, l'invocazione a Gesù Cristo perché ti ascolti e ti esaudisca è quanto mai necessaria ed importante. Dio ascolta ed esaudisce tutti coloro che con umiltà implorano il suo aiuto. Come infatti potrebbe non ascoltare i figli, lui che è padre amoroso? Egli non è mai sordo con chi lo invoca, ma sono piuttosto i figli che non ascoltano i suoi richiami. Tutto l'universo parla di lui e hanno voce tutte le creature, il bambino che nasce, il vecchio che muore, la spiga di grano che cresce nel campo, e l'astro che brilla nel cielo. La voce di ognuno arriva al suo orecchio, come la sua voce arriva al cuore di ogni uomo. Egli chiama tutti ad amare, e fa intendere a tutti il suo canto d'amore. Gesù, ascoltami. Gesù, esaudiscimi, dici, e l'eco di queste invocazioni trova posto nel suo cuore. Vaglia le richieste, perché l'uomo nella sua miseria ed ignoranza potrebbe chiedere cose non utili, non necessarie, non buone, e poi concede. Sembra un gioco di parole, ma è un ammirabile gioco della sapienza di Dio.